www.alizopole.it, Simest, un'interessante nuova riserva di finanza agevolata, sono 200 milioni di euro, per gli investimenti nei Balcani occidentali, quindi per le imprese che investono o esportano o importano dai Balcani occidentali o che sono presenti direttamente o tramite una filiera in questa regione. Cos'intende per Balcani occidentali? Serbia, Kosovo, Bosnia, Zegovina, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord. L'agevolazione è un tasso dello 0,5% a luglio 2024, una quota a fondo perduto pari al 10%, inoltre per le imprese interessate a cedere ai finanziamenti agevolati, sono esentate alla presentazione di garanzie, quindi interessantissimo per tutte le imprese che esportano e importano o sono presenti nei Balcani occidentali, opportunità per approvvigionarsi di finanza che possa dare sviluppo alle proprie imprese. Una buona lettura, vi riporto il link.